Mamma mia! Ragazzi, siamo in dieci qui, erano rimasti settanta ma Facebook ha chiuso perché abbiamo finito il tempo. Abbiamo fatto dalle sei alle... che ne sono adesso? Quindi sono sei diciotto, sono sette ore di diretta, in sette ore di diretta abbiamo fatto trentun mila duecentottanta euro. Fatevi un applauso, un attimo! Pertesca, Luca, Pertesco, il mitico, Nicola che ha risposto a tutti quanti, da stasera che sta a testa bassa così. Bardi, guardate lei, lei ha fatto il numero, andatevi a vedere il video per capire di perché. Michele ha la regia, numero uno, vi ha fatto divertire, vi ha fatto vedere tutto quanto. Filippo, che ci ha aiutato e ci aiuterò domani in poi. Davide! E io che vi abbraccio tutti quanti, ragazzi, vi abbraccio, non so, cioè, mi avete lasciato senza parole. Trentun mila duecentottanta euro, abbiamo venduto delle fotografie dal fotomatore al grande fotografo italiano. Abbiamo fatto quattromila quattrocentosessanta euro all'ora! Che cavoli! Vorrei ringraziare Maurizio Gallimberti che stasera ha dato veramente, cioè, tutti quanti, Gallimberti stasera veramente però, chapeau, è stato veramente un grande. Lo abbraccerò appena lo incontro da qualche parte. Mi avete, mi lasciate senza parole, abbiamo venduto veramente tantissime foto. Vi voglio far vedere i bolliti, vi faccio vedere un po' di cose, vi faccio un giro, così vi faccio vedere il venduto, perché non, cioè, bellissimo. Alessio Albi è venduta, Luca Artolani è già partita, Sara Rossatelli è venduta, Moreno Fortino se la sono distrutta, venduta. Poi abbiamo Camporesi è già scappato via, è già portato a casa, Davide Musci è venduto, Davide Padovan è venduto. E poi, aspetta, abbiamo, 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 Maurizio Gallimberti, andate a vedere il video, non ve lo dico, è venduto, cioè, abbiamo fatto 7200 euro con quello che ha offerto con Gallimberti, 7200 euro. Enrico De Luisi è venduto, Giovanni Gastel è venduto, a lui, che si è portato a casa, Settimio Benedusi, grande, che si è dato una mano anche con i contatti, venduto. Giorgio Gallimberti è venduto, Silvio Canini è venduto, Claudio Vignola è venduto, Michele Lugaresi, che è qua, alla regia, venduto, con la foto di giovanotti. Jacopo Benassi è venduto, Raul Iacometti è venduto, Gianluca Camporesi è venduto, Davide Cerati è venduto, Antonello Zoffoli è venduto, ve lo sono preso io, Marco Noffi, la mia, venduta, Marta Tomassetti è venduta, Cinziave è venduta, abbiamo, 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 Guendalina Fiore è venduta, Silvio Canini è venduto, me lo sono preso io. Giuseppe Palmisano è venduto, poi non ho più la voce, Andrea Bardi è venduto, Davide Musci è venduto, Adolfo Valente è venduto, Vincenzo Pioggia è venduto, è già portato a casa, Emanuele Ferrari è venduto, è portato a casa, Marco Noffri è venduta, Federico Iannachino è venduto, Caterina Errani è venduto, Caterina Errani è venduta, Giulia Bersani è venduta, Lucia Alessandri che si è comprata a Galimberti è venduta, Caterina Errani è venduta, Daniele Cifalà è venduto, Basta, anche queste vendute, questa venduta, questa venduta, ciao Luca, ciao grazie mille, ciao, il logo, la sala vuota, sono stanno andando via tutti perché abbiamo chiuso, e ragazzi, vi salutiamo, è tardi, andiamo a letto, cercheremo di organizzare qualcosa la prossima settimana, se tutto va bene, adesso ragiono con gli altri del team, sono stati tutti bravissimi, siamo tutti quanti felici, vi abbracciamo, vi mandiamo 31.280 abbracci, 31.280 abbracci, continuiamo la prossima settimana e vendiamo tutto quanto, grazie mille, grazie, grazie davvero.